Ciao, sono qui con mia moglie che purtroppo ha supporto ancora, la devo portare dietro. Siamo qui in Moldavia da dottor Palmas a fare i denti, abbiamo finito per fortuna, basta so stufo, ci siamo trovati non benissimo di più, i ragazzi sono bravissimi, l'accoglienza perfetta, tranne Anna che mi guarda, abbiamo fatto un percorso di 7 mesi tra impianti e tutto, lavoro finito, per adesso va tutto bene, speriamo che vada bene anche dopo, ritorneremo fra 6 mesi per un controllo, me la devo portare sempre dietro, poi vediamo magari, ha detto che quando gli si faceva i denti mi lasciava, si perché spera che chi guarda il video, una bella donna che dice, ah quell'uomo mi piace, adesso me lo prendo, la ricerca lì è lunga, però sti capelli biondi amore, ho trovato un modo di passare il tempo qui in Moldavia che si risparmia molto, mi sto facendo dei tatuaggi, quindi mi sto riempendo dei tatuaggi, ecco cosa dire, l'ha fatta anche lei? beh io, dicendo niente, scusate, siamo arrivati a gennaio, il primo viaggio l'abbiamo fatto a gennaio, siamo partiti dopo una settimana però, non è che siamo qui da gennaio, dopo siamo partiti, primo viaggio a gennaio, una settimana, l'intervento è andato abbastanza bene, siamo ritornati adesso per il secondo viaggio, abbiamo montato tutto, perfetto, bellissimi, soddisfatta, contenta, felice, torno a casa col sorriso, veramente, portafoglio più leggero, portafoglio più leggero però, no, ne basta la pena, ne basta la pena, ho fatto un altro, ho fatto otto impianti sopra, otto sotto, non ho avuto nessun problema, protesi avvitata, se no non facevo nulla, sono andato benissimo, tu quando l'impianto hai fatto? io ho fatto otto impianti sopra, otto impianti sotto, con la provvisoria avvitata e io pago e lui paga, giustamente, sul porto da 25 anni ci sta pure che paghi, secondo viaggio abbiamo fatto metallo ceramica, bellissimi, contentissima, si vede, basta, basta, adesso domani mattina partiamo, mi spiace lasciare tutti voi ma ho venito in Italia, ci rivediamo a febbraio per un controllo e ho già preso appuntamento per tu, voglio dire, il prezzo, la convenienza c'è, oh madonna, conviene, conviene, se venite qua non mangiate la cucina italiana, andate a mangiare la cucina moldava che è buonissima, no, veramente buona, se mangiate la cucina italiana mangiate malissimo, le cose tipiche, no, no, sono buone, sono buone, molto buone, sì, il dottor Jacobe è stato bravissimo, anche la sua assistente, niente, ci ho trovato benissimo con tutti, alla prossima, a febbraio, ciao!